Un ragazzo ucciso in quello che pare essere stato il rito di una setta, appeso al soffitto e trafitto con una spada. Il giovane però era quello sbagliato. Truccato e vestito per una sfilata risultava identico al ragazzo che doveva essere la vera vittima. Un'indagine, la protezione dell'unico testimone e una storia d'amore. Questo e tanto altro in You Are My Destiny di Lucia Piera De Paola e Giovanni Cucci. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, di solito parlo di manga ma oggi sono qui per parlarvi di un romanzo che ha una componente BL ma in realtà contiene molto di più. A me è stato mandato da Lucia Piera De Paola che ringrazio nuovamente, insieme a questo c'erano altri suoi romanzi, di alcuni vi ho già parlato sia in un video apposito sia su Instagram. Ci ho messo un po' a decidermi di leggere questo ma quando l'ho fatto l'ho divorato, trovandomi davanti a una lettura veramente molto interessante. Ma veniamo alla trama. Il protagonista è Edoardo Tarantino che ci viene presentato subito, anzi il punto di vista è proprio il suo. Si tratta di un commissario di polizia ma è anche un ragazzo gay che ha dovuto nascondere questo suo lato di sé per non essere mal visto nel suo ambiente, cioè quello della polizia ma anche il paesino siciliano in cui è cresciuto e nel quale non c'era spazio per certe cose. In seguito ad alcune vicende che ci racconta, adesso lavora a Roma presso un'agenzia di investigazione privata. Tra l'altro si tratta di un personaggio che compare anche in Factiem, di cui c'è il libro ma anche il fumetto e in entrambi i casi l'ho amato. Proprio a Roma ha luogo un crimine e Edoardo Tarantino viene chiamato per proteggere l'unico testimone. Dopo una sfilata, uno dei modelli è stato trovato morto, appeso al soffitto nel suo costume da angelo con una spada a trafiggergli il corpo. Pare però che sia avvenuto uno scambio di persona e che la vittima designata fosse invece Jeanne, un altro modello che indossava un costume identico a quello della vittima. Infatti il ragazzo aveva già subito delle minacce da parte di una setta e non c'è dubbio sul fatto che sia stata proprio quella setta ad architettare tutto. A Tarantino viene chiesto di proteggere Jeanne perché potrebbero riprovare a ucciderlo ed è così che entra nella vita privata di questo ragazzo, modello bellissimo, che attira subito le attenzioni del nostro protagonista. Ma lui è lì per lavoro, non per divertirsi, e capisce subito che non deve farsi false speranze. E intanto le indagini proseguono da parte del suo capo, ma anche dal commissario capo della polizia di Roma e da Tarantino stesso, che lentamente scava nella vita di Jeanne, della vittima, e di tutte le persone che hanno avuto a che fare con loro. È un romanzo che porta per mano nelle strade di Roma, dando l'impressione di essere davvero lì. E se fa questo effetto a me che non ci sono mai stata, figuriamoci a chi ci vive e queste strade che vengono nominate le conosce davvero. È una storia dal sapore autentico, che dà l'impressione di essere stata scritta dopo svariate ricerche perché tutto fosse perfetto, col risultato che effettivamente riesce ad esserlo. I personaggi sono verosimili, primo fra tutti Tarantino, il nostro protagonista, con i suoi spettri del passato che ancora lo condizionano, ma che lentamente riesce a lasciare andare. E come lui, anche gli altri personaggi e le vicende sono molto vere. Tra l'altro i personaggi sono tutti elencati all'inizio, cosa che mi è stata molto utile, infatti diverse volte sono tornata a questo elenco per controllare di ricordare davvero chi fossero tutte queste persone nominate. Se deciderete di recuperare questo libro e di leggerlo, il mio consiglio è quello di ignorare inizialmente la lista, ma di tornarci all'occorrenza, così da iniziare la lettura senza sapere assolutamente niente. È un romanzo che continua a sorprendere e che nelle ultime fasi tiene incollati alle pagine in modo adrenalinico e riesce alla fine a unire tutti i puntini. Inoltre qui gli autori fanno una cosa che io vorrei vedere molto più spesso, quindi con questo romanzo hanno proprio esaudito un mio desiderio. Avete presente quando un film, una serie, un romanzo si incentra su una trama che sia fantasy d'azione, investigativa anche, come in questo caso. Ma poi a un certo punto scatta qualcosa e c'è anche la storia d'amore. In tutti o quasi tutti i casi sono però storie d'amore etero, quasi che fossero le uniche possibili, quasi come se le coppie omosessuali non fossero ancora abbastanza considerate normali per essere inserite in un'opera che non vuole essere dedicata soltanto a raccontare quello ma che riguarda altro. Insomma, di solito le opere che ci mostrano una coppia di questo tipo partono già con il presupposto che vogliono raccontare quello. Invece di storie che vogliono parlare di qualcosa che sia fantasy di sopravvivenza e qualt'altro, ma all'improvviso hanno anche la storia d'amore, così ce ne sono tante. Ma quante contengono una storia d'amore omosessuale? Io ne ho viste zero. Ma è quello che fa You Are My Destiny, perché il protagonista è gay e a un certo punto abbiamo anche la storia d'amore. Malgrado il fulcro sia proprio l'indagine. Temo di aver fatto un discorso un po' confuso, ma spero si sia intuito quello che intendevo. Questo romanzo mi ha dato proprio quello che cercavo e che vorrei vedere più spesso. È stata una lettura bellissima che io posso solo consigliarvi perché l'ho amato. Ringrazio Lucia per avermelo mandato. Io di romanzi ne leggo pochi e questo non lo conoscevo, quindi mi ha proprio fatto scoprire una perla. Ditemi se conoscete altre storie di questo tipo, se conoscevate già questo romanzo, l'avete già letto. In caso contrario io spero di avervi incuriositi perché è un'opera che merita moltissimo. Vi lascio in descrizione il link al video in cui ho parlato degli altri romanzi dell'autrice, nel caso foste curiosi. E vi anticipo che c'è anche un seguito, quindi ne riparleremo, ma prima volevo condividere con voi le mie considerazioni sul primo. Detto questo vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare e condividere il video per far conoscere quest'opera anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video. Grazie.